Ciao amici value investor, quando si parla di mercato azionario esistono due scuole di pensiero da una parte c'è quella di Benjamin Graham, Warren Buffett, Charlie Munger, Marx, Bill Ackman eccetera che sostengono che il mercato sia razionale solo nel lungo periodo mentre nel breve spesso i prezzi delle azioni vengono fatti dalle emozioni degli investitori paura, incertezza o avidità e dall'altra parte ci sono tutti gli altri investitori cioè quelli che credono nella teoria dei mercati efficienti cioè che le azioni sono sempre correttamente prezzate per quello che è il reale valore dell'azienda e quindi se la mia azione fa più 5% un giorno posso essere felice perché vuol dire che il mercato mi sta dando ragione e ho fatto una bella scelta se invece crolla del 5% mi deprimo perché il mercato ha sempre ragione quindi ho torto e ho fatto un brutto investimento ma vediamola all'opera questa efficienza dei mercati questa è Alien, una delle più importanti aziende fintech al mondo e come potete vedere c'è stato un bel rock and roll di recente a livello di price action ad agosto, tre mesi fa, era quasi a 1600 euro il titolo e Alien era considerata dal mercato efficiente un'azienda spettacolare un'azienda con un vantaggio competitivo assurdo un'azienda diversa dalle altre e che sarebbe cresciuta a ritmi incredibili per molti anni ancora salvo poi crollare poco dopo del 60% dopo la pubblicazione della semestrale dove l'azienda ha mancato le aspettative del mercato e di colpo, non nel giro di qualche anno ma nel giro di un paio di settimane quella che era un'azienda incredibile con un super motto diventa di colpo una commodity un'azienda indifferenziata vittima di una sanguinosa guerra dei prezzi che avrebbe portato i suoi margini a picco e a crescere lentamente e tra l'altro facendo crollare le azioni anche di altre aziende fintech competitor come Block, Paypal eccetera ma poi dopo qualche settimana ancora Alien fa un update del Q3 cioè del trimestre dopo la semestrale che l'ha fatta precipitare dove in pratica non è che la situazione si ribalta a livello di risultati ma conferma una crescita decisamente più lenta rispetto al passato e il management conferma che in futuro non si può più crescere come in passato però dicendo che questo era il fondo il fondo era stato toccato e che il mercato dei pagamenti digitali offrirà tante opportunità per molti anni ancora e questo è bastato per far schizzare in alto del 35% il titolo il giorno dopo e in pochi giorni si fa un più 60% e Alien torna improvvisamente ad essere considerata dal nostro mercato efficiente una grande azienda quindi in tre mesi siamo passati da azienda straordinaria ad azienda commodity destinata a morire ad ottima azienda e poi dicono che i mercati sono efficienti e hanno sempre ragione sul valore di un'azienda può il valore di un'azienda allora cambiare in questo modo nel giro di qualche settimana? ovvio che no non penso proprio ed è proprio perché nel breve il mercato si sbaglia sul reale valore di un'azienda che si creano opportunità di investimento altrimenti se avesse sempre ragione non avrebbe senso fare stock picking ma comprare un etf sull'SP500 visto che il mercato ha sempre ragione quindi ha senso seguire il mercato e di casi come Alien ce ne sono sempre stati vi ricordate quando Alphabet era crollata sotto i 90 dollari perché il mercato diceva che Bing di Microsoft grazie all'intelligenza artificiale di ChatGPT avrebbe ammazzato Google? oggi la situazione in teoria sarebbe ancora peggiore perché Microsoft ha creato anche Copilot che integra l'intelligenza artificiale in tutto il suo sistema operativo ma il prezzo di Alphabet è salito di oltre il 50% nel frattempo perché il mercato si era accorto che era stato troppo pessimista per usare un efemismo sul futuro di Google e poi c'è stato il caso di Meta che dopo essere crollata lentamente per tutto il 2022 improvvisamente è passata da azienda morta ad azienda del futuro e Zuckerberg da pazzo idiota a grande CEO Adobe nel 2022 passa da 440 dollari a 277 in poche settimane solo perché ha annunciato che aveva intenzione di acquistare Figma e per il mercato significava che Adobe aveva perso il suo vantaggio competitivo e doveva comprare anche strapagando i concorrenti più pericolosi tempo però che il mercato tornasse lucido e il titolo aveva raddoppiato il suo prezzo e se vogliamo andare indietro nel passato abbiamo Apple nel 2016 che ha visto calare le sue vendite dopo anni di crescita costante e secondo il nostro mercato efficiente valeva solo 10 volte gli utili e questo perché il mercato tende ad essere miope a vedere al massimo entro 6 mesi, un anno e quindi vedendo un'azienda che per qualche trimestre ha avuto vendite in decrescita l'ha giudicata ormai un'azienda finita e la narrativa era che Apple era un'azienda ormai matura non era più capace di innovare come prima gli iPhone che dovevano trascinare l'azienda si vendevano di meno la guerra commerciale con la Cina avrebbe peggiorato le vendite in Cina per Apple insomma il mercato spesso ha aspettative irrazionali e vuole vedere una linea retta quando pensa alla crescita di un'azienda l'essere umano non concepisce che un'azienda possa avere alti e bassi durante la sua vita ma comunque continuare a crescere sul lungo periodo e ovviamente Buffett che sa quanto possa essere irrazionale il mercato l'ha comprata nel 2016 e ha fatto un affare clamoroso con Apple poi è chiaro che il mercato può essere inefficiente anche per anni guardate ad esempio il titolo Microsoft come ha lateralizzato per anni nonostante le vendite gli utili dell'azienda crescessero costantemente e il PE era sempre stato molto basso oscillava tra il 10 e il 15 e il mercato poi può essere anche inefficiente al contrario nel senso che ci possono essere azioni che il mercato momentaneamente dà per vincenti su cui è eccessivamente ottimista e uno dei casi più eclatanti degli ultimi anni è stato quello di Tattoo Chef un'azienda che andava molto di moda nell'ambiente finanziario di YouTube una piccola azienda senza vantaggio competitivo in un settore capital intensive e super competitivo aveva margini lordi ridotti all'osso era poco profittevole diluiva costantemente gli azionisti eppure aveva raggiunto i 20, i 25 dollari anche i 28 dollari come prezzo il titolo per il mercato era un'azienda super promettente aveva multipli da azienda tech ma il mercato si sbagliava ed infatti il prezzo è crollato a zero perché l'azienda è fallita il fatto è che il mercato non può essere efficiente anche se tutti abbiamo le stesse notizie e informazioni su un'azienda perché queste notizie e informazioni vengono poi filtrate da noi che siamo persone e quindi essere emotivi e possiamo dare a queste informazioni un significato diverso, non oggettivo quindi la storia sembra dire che il mercato non sia sempre efficiente e se ci pensate è anche una bella fortuna altrimenti sarebbe impossibile trovare delle grosse occasioni poi è chiaro che non è detto che ogni volta che si va contro il mercato si ha ragione cioè non c'è bisogno di specificarlo credo anche Buffett ha avuto torto con IBM Kraft, Tesco o le compagnie E basta avere ragione un paio di volte su 10 dice Buffett per avere ottimi risultati se anche voi pensate che il mercato non sia sempre lucido e quindi si possano trovare delle occasioni nel nostro gruppo Discord del circolo dei value investor la pensiamo uguale e quindi se volete potete unirvi al gruppo vi basterà supportarmi con una piccola donazione su Patreon link in descrizione e fatemi sapere voi cosa ne pensate della diatriba tra mercati efficienti e Mr. Market invece che perde la testa ogni tanto un like al video se vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima ciao da Davide